Va bene direi che possiamo iniziare Buongiorno a tutti Siamo alla terza lezione e finalmente direi Partiamo con gli argomenti veri e propri del corso E quindi con il blocco Python Functional Quindi la programmazione funzionale in Python ovviamente Prima di affrontare questo nuovo argomento Direi che vale la pena dare solo un'occhiata alla soluzione del laboratorio La trovate ovviamente sul sito del corso E in particolare dell'esercizio sul to do manager Poi ovviamente potete guardare la soluzione per conto vostro E magari confrontarla con la vostra Volevo solo riassumervela Ho diviso le varie funzionalità richieste in funzioni Come abbiamo visto la scorsa volta Abbiamo iniziato a vedere le funzioni in Python Ogni funzione riceverà come questa new task La lista di task in cui andare ad effettuare l'operazione In questo caso aggiungere un nuovo task E vedete che questa funzione new task Semplicemente chiede in input un task all'utente E poi lo va a inserire nella lista che abbiamo passato come argomento E via dicendo Ci sono le varie funzionalità La rimozione di un task Dato esattamente il suo contenuto Il contenuto del task Vedete che c'è questa remove A cui passiamo il task digitato dall'utente Ovviamente questa remove funziona solamente se c'è esattamente nella lista il task che ha digitato l'utente Per evitare che questa remove dia delle eccezioni strane Controlliamo anche che effettivamente il task ci sia Quindi controllo se il task c'è Se c'è lo cancello Altrimenti stampo un messaggio di errore La funzione remove multiple task Che è quella forse un po' più complicata Andiamo a rimuovere anche i task che iniziano O contengono quello che l'utente ha digitato Quindi non esattamente il task ma anche task multipli E va bene La print E poi vedete che qua inizia il programma principale Quindi le funzioni sono definite all'inizio del file Verranno poi chiamate dal programma principale Il programma principale che si definisce questa lista vuota Task list Che è inizialmente vuota ma prima di iniziare con il menu Quindi con il proporre all'utente le varie operazioni da fare Andiamo a vedere all'interno di un file di testo Se ci sono dei task dati da un'interazione precedente Quindi vedete Andiamo ad aprire il file In lettura Quindi non specifichiamo nessun parametro Vuol dire lo apriamo in lettura Andiamo a leggere il contenuto di questo file Forse questo metodo non l'abbiamo visto la volta scorsa E alcuni di voi si sono scontrati con il fatto che la readline Se usiamo la readline questa ci prende anche gli slash n Quindi abbiamo delle stringhe che contengono anche lo slash n Questo metodo qui Read.splitlines In automatico legge riga per riga del file Toglie lo slash n e mette tutto in una lista Quindi fa proprio quello che serve a noi Quindi il risultato di questa read.splitlines Sarà una lista di righe senza lo slash n È quello che vogliamo noi La nostra task list E poi chiudiamo il file Vedete c'è anche una gestione delle eccezioni Un try except Nel caso si verifichi un errore di input output Che è l'unico errore che può capitare qui Per costruzione Ad esempio perché il file non esiste Gestiamo questa eccezione Stampando un messaggio E dicendo ok C'è stato un problema con il file Inizieremo con una lista vuota Quindi questo è un modo per gestire Questa eccezione qui Non c'è il file Va bene Ripartiamo da zero Questa è la parte iniziale del programma Che poi va in un ciclo Che è il ciclo di stampa del menu Abbiamo visto Vogliamo che questo programma sia interattivo Che non si fermi subito Ma permetta all'utente di effettuare anche più di una operazione Quindi qui il pattern Chiamiamolo così Che ho utilizzato E' avere una variabile Ended Booleana Che all'inizio imposto come Falsa E ciclerò su quella variabile Fino a quando Sarà Not Ended Se voglio uscire Cosa mi basta fare Mettere quella variabile lì Col valore Vero A quel punto Al giro seguente del ciclo Non entrerà più Nel ciclo Perché Not ended E Uscirà E il programma Terminerà Ok E quindi in questo ciclo Quello che facciamo ogni volta È stampare il menu Con le varie operazioni Che possiamo fare Prendere L'input dell'utente Quindi la scelta 1 2 3 4 5 Ovviamente l'utente potrebbe anche Sbagliare E mettere un carattere al posto Del Carattere alfabetico Al posto di un numero O un numero fuori dal range Magari Allora c'è anche un controllo Dell'input In questo caso è molto semplice Con questo metodo IsDigit Che è un metodo Predefinito di Python Andiamo a E con questo ciclo While Andiamo a richiedere l'input Fino a quando l'utente Non inserisce veramente Un numero Ok Se per caso sbaglia Inserisce una lettera Continuiamo a chiederglielo Quando siamo qui Siamo sicuri Che l'input Sia un numero E quindi possiamo Convertirlo in un numero E andare a fare La nostra serie di If e leaf Per capire Che Quale delle funzioni Invocare Ovviamente Se premiamo 5 Mettiamo Ended A true Questo fa Uscire dal ciclo E arrivare qui Alle ultime righe Di codice Del programma Che sono eseguite Una sola volta Quando il programma Finisce Cosa facciamo? Andiamo a Salvare Le modifiche Che abbiamo fatto Durante L'esecuzione Corrente Del programma Nel nostro file Così la prossima volta Ripartiamo In modo consistente Da quello che abbiamo fatto Allora qui anche Per salvare nel file Abbiamo varie alternative Con vari livelli Di difficoltà Uno potrebbe pensare Ok Vado a vedere Che cose Effettivamente Ho cambiato Rispetto all'ultima volta E modifico Solo quello Che ho cambiato Ad esempio Ho eliminato Il terzo task Vado a prendere Il file che c'è E elimino La terza riga Ad esempio Forse è un po' Una complicazione Di cose semplici La soluzione Più veloce È forse quella Di ok Cancello tutto E riscrivo La versione corrente Della lista Ed è proprio Quello che faccio qui Quindi lo apro In scrittura Con la W Questo vuol dire Cancella tutto Quello che c'è E riscrivo I task Che sono presenti Nella mia lista Domande? Siete riusciti A farlo? Ok Era ancora Un esercizio Per impratichirsi Un po' Con Con Python Vediamo che ora Cambiamo proprio Un po' Modalità Di ragionare Anche Tipologia Di esercizi Ok Se non ci sono domande Affronterei Prima di iniziare Veramente le slide Di Python Functional Le ultime 5-6 slide Che c'erano Nel blocco precedente Che però in realtà Servono A introdurci Al nuovo argomento Queste slide Ci parlano Di come Python Passa i parametri Alle funzioni Allora Voi avete visto In C Che In quel linguaggio Di programmazione In particolare Avete la possibilità Di passare I parametri Alle funzioni In due Direi Modi Giusto Quali sono Ok Per riferimento E per valore E qual è la differenza Tra questi due Una non modifica La variabile Nel main L'altra Si Ok Ma qual è il motivo Che nel passaggio Per valore Noi Passiamo una copia Esatto Mentre nel passaggio Per riferimento Passiamo un puntatore Alla variabile E attraverso Questo puntatore Riusciamo a modificare L'unico valore Che abbiamo Mentre nel passaggio Per valore Passiamo una copia Che Non influisce Sul valore Originale Ok Questo è chiaro In python Non c'è Né un modo Nell'altro Ma il passaggio Di parametri In python Ha un nome particolare In realtà Viene chiamato In diversi modi Ma tipicamente Viene chiamato Passaggio Per assegnamento E vediamo Un attimo Come funziona Allora Supponiamo di avere Una funzione Che chiamo Fu Fare un po' di Zoom Ok A cui passo Una stringa My Str Che cosa fa Questa funzione Cambia il valore Di my String Supponiamo di scrivere Nuova stringa Ok E la stampa Print My Str Questa è la funzione Ora Nel programma principale Proviamo ad invocarla Allora Allora Definiamoci Una stringa Chiamiamola Original Uguale Stringa Originale O chiamiamola Vecchia stringa Ok Poi Richiamo la mia Funzione Passandogli La stringa Original E stampo La mia Stringa Original Ok Abbiamo due print Una all'interno Della funzione Una fuori Si aprono le scommesse Che cosa stampa Questo programma Secondo voi Non lo sapete ancora Quindi Non vi giudico Nuova stringa Vecchia stringa Dice il vostro compagno Qualcuno ha qualcosa In contrario Proviamo Clicco run E infatti Viene stampato Nuova stringa Vecchia stringa Cosa vuol dire Questo Che Nonostante questo Ci possa sembrare Un Un cambiamento Della stringa La stringa Non viene Non viene Cambiata Perché Non viene Cambiata Per il modo Che ha python Di passare I parametri Alle funzioni Cerchiamo di Capirlo Insieme Allora Quando invochiamo Una funzione E passiamo Un parametro A questa funzione Viene passato Un nuovo Riferimento All'oggetto Allora Allora L'oggetto Ovviamente Era Vecchia stringa Quindi In memoria Avremo Da qualche parte Un oggetto Di tipo stringa Che contiene Vecchia stringa Con il riferimento Original Quando invochiamo La funzione My Str È Un altro Riferimento Allo stesso Oggetto Ok Voi mi direte Ok Allora perché Non riusciamo A modificare L'oggetto Stesso Se abbiamo Due riferimenti Che puntano Alla stessa Cosa Esatto Quello che credo Il vostro compagno Sta cercando Di dire È che Ok È vero Abbiamo Due riferimenti Allo stesso Oggetto Ma qui Stiamo andando A riassegnare Questo secondo Riferimento A un altro Oggetto Quindi questo Uguale qui Fa sì che In memoria Venga creato Un oggetto Che è diverso Da quello Di vecchia stringa E ci facciamo Puntare Questo riferimento Qui a questo Nuovo oggetto A questo punto Capite che abbiamo Due cose Separate Possiamo anche Andarlo a vedere Su python tutor Questo è il nostro Codice Lo andiamo A visualizzare Riga per riga Va bene La prima riga Era la definizione Della funzione Infatti vedete Non c'è nessun output Nella console Abbiamo solo creato Questo oggetto Vi ricordo che Tutto in python È un oggetto Quindi anche la funzione Stessa è un oggetto Nella memoria Ma va bene Partiamo dalla riga 5 E eseguiamo passo per passo No aspettate che Questa visualizzazione Non mi piace Vediamo un po' Se riusciamo No Ok così dovrebbe andare Ok Vedete abbiamo creato Adesso con la riga 5 Original Uguale vecchia stringa Un riferimento A un oggetto Che contiene La stringa Appunto Vecchia stringa Richiamiamo la funzione Vedete Passando questa stringa Come parametro Viene creato Un secondo riferimento Allo stesso oggetto No Original E mystr Puntano allo stesso oggetto Benissimo Il problema sta In questa riga qui Quando facciamo Mystr Uguale Nuova stringa Vedete Stiamo andando a creare Un nuovo oggetto In memoria Proprio per come Lavora python E a questo punto Mystr Punta a questo nuovo oggetto E non c'è più modo In nessun modo Possiamo riferirci A original Perché vedete Le due cose Diventano completamente Staccate Quindi tutte le modifiche Che facciamo A mystr Rimarranno All'interno Dello scope Della funzione Fu Qui non ritorniamo niente E vedete Original Rimane Quella che è Allora Apriamo un attimo Le slide E ricapitoliamo Quanto detto Quindi quello che abbiamo visto È che quando chiamiamo Una funzione Con un parametro Uno più parametri Viene creato Un nuovo Riferimento Per l'oggetto Che abbiamo passato Questo riferimento È separato Dal riferimento Che usiamo Nel programma principale È proprio Un nuovo Riferimento E quindi Non c'è modo Di riferirsi Al riferimento Originale Quindi quello Che succede Nell'esempio Che abbiamo fatto Creiamo Creiamo Un secondo Riferimento MyString Allo stesso Oggetto Ma nella stessa Funzione Riassegniamo Quel riferimento A un oggetto Differente E quindi In questo modo Non riusciamo A cambiare La stringa Originale Quindi quello Che ci fa Capire Questo esempio È che Il passaggio Dei parametri In python Non segue Né una logica Di passaggio Per valore Né una logica Di passaggio Per riferimento Ma un passaggio Per Chiamiamolo Assegnamento E L'unico modo Di simulare Un passaggio Per riferimento Quindi Di poter Dall'interno Della funzione Modificare Direttamente L'oggetto Che sta Fuori Dalla funzione Qual è? Vabbè C'è scritto Nella slide Ma è quello Di passare Un oggetto Che è Mutabile Quello È l'unico Modo Per simulare Un passaggio Per riferimento Le stringhe Non sono Mutabili E quindi Questo trucchetto Non funziona Se Andiamo a fare Lo stesso esempio Ma Piuttosto che Farlo Sulle stringhe Lo facciamo Sulle liste Quindi supponiamo Al posto di avere Original Una stringa Abbiamo Una lista Ok Che passiamo La nostra funzione Cambiamo anche Il nome del parametro My list E poi All'interno Noi Modifichiamo La lista Basandoci Sul fatto Che la lista È una struttura Dati Immutabile Quindi diciamo Supponiamo My list Punto Append 4 Print my list Vedete Che Adesso Se vado A eseguire Il mio Codice La modifica Che faccio Qui Si Ripercuote Sull'unica Lista Che c'è In memoria In questo caso Abbiamo Sì due Riferimenti Ma questi due Riferimenti Si riferiscono Allo stesso Oggetto E io Modifico Direttamente Quell'oggetto Senza Riassegnare Il riferimento A un'altra Variabile Vedete La differenza Non c'è l'uguale C'è il punto Append Quindi non Riassegno Niente Ovviamente Se facessi Una cosa Del genere Anche Con le Liste Siamo Di nuovo Nel caso Di prima Siete D'accordo Qui sto Andando A creare Una nuova Lista Se Non siete Ancora D'accordo Lo possiamo Vedere Anche In python Tutor Questa È La soluzione Con L'append Quindi Original Vedete C'è Una sola Lista My list Punta Quella Lista E quindi Se faccio Una punta Append Su My list È come Fare Una punta Append Su Original L'oggetto È lo stesso Infatti C'è Una sola Lista Se io Però Al posto Di usare I metodi Per modificare La lista Uso Un Riassegnamento In questo Modo È vero Che aggiungo Sempre un 4 Ma Nell'aggiungerlo Creo Una nuova Lista Con Questa Riga Qui Vedete Vado A creare Una seconda Lista Che Conterrà Il 4 Ma A questo Punto Non è Quello Che vogliamo In questo Caso Quindi Se passiamo Un oggetto Mutabile Il metodo Tiene Un nuovo Riferimento A quello Stesso Oggetto Ma Possiamo Mutarlo Se Passiamo Invece Un oggetto Immutabile Come abbiamo Visto Con le Stringhe Qual è Qual è L'unico Modo Per Poter Modificare Quello Che c'è Nel Programma Principale E Quello Di Creare Uno Nuovo E Ritornarlo Come Output Della Funzione Cioè Cerchiamo Di tornare Se riusciamo Alla Versione Sulla List Sulla Stringa No C'era Già Originale Uguale Vecchia Stringa Fu Originale Print Originale Ok Questa è la versione Che abbiamo fatto prima Quella che Diciamo così Non funziona Non modifica Il valore Di originale Se vogliamo Modificarlo Beh L'unico modo È All'interno Della funzione Mi son creato Questa nuova Stringa È l'unica cosa Che posso fare Perché la stringa Non la posso mutare E allora Oltre a modificarla Visto che è un nuovo valore Lo ritorno Return My Str Avendolo ritornato Ovviamente dal programma principale Me lo devo prendere E salvare da qualche parte E ok Allora posso dire che Originale È uguale a Fu Di originale Ad esempio In questo modo Sovrascriviamo Il valore Di originale Che Conterrà A questo punto Nuova stringa Quindi Se siamo in presenza Di oggetti Immutabili E occorre fare Questa Questa cosa qui Questo assomiglia Più a un passaggio Per valore Mentre Con gli oggetti Immutabili Assomiglia più A un passaggio Per riferimento Però bisogna Avere bene In testa In mente Come funzionano Le cose In memoria Per non Trovarsi Davanti a situazioni In cui facciamo Una cosa Pensando Di avere Il risultato X In realtà Poi abbiamo Il risultato Y Domande Ok Quello che Trovate Nelle slide Esattamente Sono esattamente Gli esempi Che abbiamo Visto Insieme Va bene Vista Questa Questi dettagli Sulle funzioni Direi che È l'ora Di iniziare Il blocco Python Functional L'abbiamo Già visto All'inizio L'avete visto Credo Anche Nelle altre Parti Di questo Corso I linguaggi Di programmazione Supportano La decomposizione Di un problema E quindi Il modo Con cui Il programmatore Può Programmare In modi Diversi Possiamo Avere Un paradigma Procedurale Dove I programmi Sono composti Da un set Di istruzioni Che vengono Eseguite Passo passo Come in C In Pascal Qui Il focus È Il programmatore Dice Al pc Diciamo così Come Risolvere Un problema Quindi Dà tutte le istruzioni Come se fosse Una ricetta Per risolvere Un problema Abbiamo I paradigmi Declarati Declar Va bene Mi sfugge il termine In italiano Ma ci siamo capiti Declarati Programs Non so se avete visto Le SQL Già nella vostra carriera No Quindi le SQL È Il linguaggio Di programmazione Per accedere Ai database Relazionali Ed è Un linguaggio Di programmazione Ok Dichiarativo Dove Il programmatore Descrive Il problema Da risolvere Quindi dice Ad esempio Da Select Colonna X Valore Y Dalla tabella Z Quindi Dice Come Descrive Il problema Che vuole risolvere Che cosa vuole selezionare Ad esempio Da una tabella Di una tabella Relazionale Poi abbiamo Il paradigma Ad oggetti Che state Iniziando a vedere Nella parte Java Che Si focalizza Principalmente Sul Sul riuso Dei dati E quindi Offre al programmatore Il modo di Incapsulare I dati In una serie Di Classi Ed oggetti Che possono essere Istanziati E riutilizzati In vari contesti E poi abbiamo La programmazione funzionale Che è quella Su cui noi ci concentriamo Che invece Cerca di decomporre Il problema In una serie Di funzioni Nel vero senso Della parola Nel senso Che La programmazione Funzionale Pura Si basa Su delle funzioni Che dovrebbero essere Pure Quindi Funzioni Che non abbiano Nessuno Stato interno Se pensate Alla programmazione Ad oggetti E' pieno Di stati interni Gli oggetti Hanno degli attributi Che in un certo Momento Hanno un determinato Valore Questo valore Può cambiare La programmazione Funzionale Invece E' per lo più Stateless E L'output Delle stesse Funzioni Dovrebbe Sempre essere Lo stesso A partire Dallo stesso Input Qual è il vantaggio Della programmazione Funzionale Lo vediamo a breve Bisogna però Iniziare a dire Che alcuni Linguaggi Di programmazione Sono Progettati Per lavorare Esplicitamente Con un singolo Paradigma Di programmazione Con il linguaggio SQL Siamo in ambito Dichiarativo E basta Non possiamo Programmare In modo Procedurale In SQL Ci sono Linguaggi Anche ad esempio Funzionali puri Come se non sbaglio Lo scala Se non ricordo male Con cui Ok Il paradigma E' quello E siamo obbligati A seguire Quel paradigma Non è così Per Python Come avrete Già Penso Intuito Python Python E' un programma Multi paradigma Quindi supporta Diversi approcci E il programmatore E' libero Di mischiare Questi approcci Nei propri programmi Quindi possiamo Scrivere Librerie in Python Che sono Per lo più Procedurali Seguono Seguono Possiamo Possiamo Scrivere Classi In Python Quindi possiamo Anche avere La programmazione Ad oggetti Da questo punto In avanti Ci concentreremo Su scrivere Programmi Che siano Per lo più Funzionali In Python Sapendo Che non Saranno Mai Funzionali Puri Almeno Per come Li scriveremo Noi Però L'obiettivo Di questo Corso E degli esercizi Che faremo Da qui in avanti Che farete All'esame Ok Questo esercizio Si può Risolvere In n Modi Diversi Con n Paradigmi Diversi Cerchiamo Invece Noi Di risolverli Nel modo Più Funzionale Possibile Vabbè Ovviamente C'è tutta Una teoria Alla base Del Paradigma Funzionale Che non Abbiamo Tempo Di Sviscerare Vi basti Sapere Che è Basata Sul Lambda Calculus Che è Stato Introdotto Da questo Matematico Nel 1930 Ed è Un sistema Formale Di computazione Che è Basato Interamente Su Funzioni Vabbè Se volete Qualche informazione In più Potete Navigare Su internet E trovate Tutto quello Che vi serve Ma Purtroppo Non abbiamo Tempo Ad andare Nei dettagli Possiamo Però Cercare Di vedere Quali Sono I vantaggi Teorici E pratici Di Sfruttare Questo Paradigma Innanzitutto È Un linguaggio Dimostrabile Nel senso che Possiamo creare Delle Dimostrazioni Matematiche Che ci dicono Che il nostro Programma È Corretto Perché Possiamo Farlo Proprio Perché Se seguiamo Il linguaggio Funzionale Puro Ci basiamo Su funzioni Matematiche Che sono Pure E che Quindi Danno Sempre Lo stesso Input Sempre Lo stesso Output A partire Dallo Stesso Input Possiamo Quindi Ovviamente Se conosciamo Quali sono Gli input E gli output Corretti Dimostrare Che il nostro Programma È corretto Quindi Che dia L'output Che vogliamo Sempre Questo Non è Tendenzialmente Vero Per altri Paradigmi Di programmazione Poi Ci forza A pensare In modo Modulare E la Modularità È un vantaggio Perché Ci permette Di dividere Il problema In pezzi Più piccoli Come le funzioni Che poi Possono Essere Riutilizzati Quindi Riutilizzo Di codice Vuol dire Scrivo Meno codice Scrivo Meno codice Vuol dire Inserisco Meno errori Nel mio programma Appunto Le funzioni Possono essere Riutilizzate Ed è anche Più facile Debugare Testare I nostri Programmi Perché Perché le funzioni Sono generalmente Piccole E Specifiche Quindi Sono facilmente Intuibili Almeno Il loro Obiettivo È facilmente Intuibile E soprattutto Se sono Progettate bene E se non Dipendono Dallo Stato Del sistema Di nuovo Per lo stesso Input Danno lo stesso Output Non si riferiscono A variabili Globali Vedremo che Il riferirsi Alle variabili Globali È Una cosa Che non è Prevista Nel Paradigma Funzionale E questo Semplifica Di molto Il La fase Di debug Testing Del codice Quindi Il paradigma Funzionale Si Si focalizza Sul Che cosa Il programmatore Vuole Piuttosto che Sul Come Ottenere Il risultato E Le caratteristiche Principali Di un Funzionale Puro Sono Che L'ho già detto Le funzioni Devono essere Pure Questo vuol dire Non devono Avere Effetti Collaterali Vediamo Tra poco Che cosa Sono Questi effetti Collaterali Seconda Caratteristica Principale Le funzioni Sono Degli oggetti Di prima Classe Che cosa Vuol dire Questo Che Tutto Quello Che posso Fare Con i Dati Quindi Con le Variabili Normali Lo posso Fare Anche Con le Funzioni Questo Vuol dire Che Ad esempio Le funzioni Possono Essere Passate Come Parametro Ad altre Funzioni Oppure Che Una Funzione Possa Ritornare Una Funzione A sua Volta Quindi La Funzione Vista Come Un dato Normale Una Variabile Terza Caratteristica La Ricorsione È Spesso Usata Al posto Dei Loop E Questo È Il Motivo Per Cui Nel Penultimo Blocco Se Abbiamo Tempo Vedremo Anche La Ricorsione Fatta In Python Perché È Un Elemento Fondamentale Della Programmazione Funzionale Quindi È Proprio Un po' L'opposto Del Paradigma Ad Oggetti Che State Vedendo In Java Dove Gli Oggetti Sono Delle Capsule Che Contengono Degli Stati Interni Gli Attributi Di Quell' Oggetto È Una Collezione Di Si Basa Sulle Funzioni Di Prima Classe Funzioni Di Prima Classe Che Sono Già Previste All'interno Del Linguaggio E Già Ne Esistono N Già Predefinite Per Noi All'interno Della Libreria Python Ne Vedremo Alcune Le Utilizzeremo Molto Esempi Sono La Funzione Map La Funzione Reduce La Funzione Ce ne Sono Tante Le Vedremo Insieme Quindi Sono Delle Funzioni Già Sviluppate In Ottica Programmazione Funzionale Parliamo Un Po Di Funzioni Pure E Effetti Collaterali Allora Le Funzioni Pure Dovrebbero Assomigliare Alle Funzioni Matematiche Ok Quindi Dovrebbero Essere Deterministiche Dato lo stesso Input Abbiamo Sempre Lo stesso Output Non Dovrebbero Riferirsi A Valori Esterni E Una Funzione Senza Parametri Dovrebbe Sempre Ritornare Lo stesso Valore Il valore Costante La funzione Costante Matematica Tuttavia Le funzioni Nei vari linguaggi Di programmazione Come ben potete Capire Sono Non sono Esattamente Uguali Alle funzioni Matematiche Perché In molti Linguaggi Incluso Python Ad esempio Non è Obbligatorio Che una funzione Produca Un output No? Non è Obbligatorio Che ci sia Una return Alla fine Di una funzione In un linguaggio Di programmazione Le stesse funzioni Si possono riferire A valori esterni Le famose Variabili Globali Che da ora in avanti Cercheremo Di evitare E queste Variabili Globali Ovviamente Poi Influiscono Sull'output Ok Quindi possiamo Avere una funzione Che Secondo noi Dovrebbe dare Sempre Lo stesso valore Il problema È che Questa funzione Si riferisce A una variabile Esterna Qualcuno Da qualche Altra parte Mi modifica Quella variabile Globale E l'output Non è più lo stesso Ok E le funzioni Possono addirittura Riferirsi A strutture Dati Esterne Al programma Pensiamo ai file Di testo Che abbiamo visto Adesso Noi non possiamo Sapere che cosa ci sia In un file di testo E non possiamo Dire che questo file Non cambierà Magari qualche altro Programma Mi cambia O l'utente stesso Cambierà quel file E di conseguenza L'output Cambierà Questi sono tutti esempi Di effetti Collaterali Che In programmi In un paradigma Non funzionale I programmi Possono avere Quindi Un effetto collaterale È un qualcosa Che modifica Lo stato Di un valore Di una variabile Fuori dal suo Local environment Quindi fuori dalla funzione Dall'esterno Quindi abbiamo già visto Alcuni esempi Le variabili globali I file Ad esempio qui Nella slide Abbiamo Sulla sinistra Un esempio Di codice Che è scritto In modo Non funzionale In python Perché? Perché c'è questa variabile Globale B Ok? Quindi abbiamo Questa Funzione Add A B Il cui scopo è Sommare Banalmente A e B Ma mentre A è passato Come parametro B è una variabile Globale Di cui non possiamo Sapere a priori Qual è il valore La funzione Non lo può sapere Ok? Quindi questo è un esempio Di programma Non funzionale Che si può tuttavia Trasformare facilmente In un programma Funzionale Come? Passando anche B Come parametro Evitando di usare Una variabile globale E avete l'esempio Qui sulla destra Ok? Come dicevo prima Bisogna fare attenzione Perché python Non è un linguaggio Che supporta Un paradigma Di Paradigma funzionale Puro Perché appunto Questi effetti collaterali Sono sparsi Nella maggior parte Dei programmi Scritti in python Quindi le variabili Sono spesso Riassegnate Ci sono Strutture dati Mutabili E questo è un problema Dal punto di vista Funzionale Perché? Perché questi dati Possono essere Modificati Anche dall'esterno C'è input output Quindi stampa Sulla console Stampa su file Eccetera Quindi in python Quello che dobbiamo Avere bene in testa È che il paradigma funzionale È spesso Mixato Mischiato Con altri Approcci Cosa facciamo In questo corso? Cerchiamo di imparare Una serie di ingredienti Per rendere Il nostro codice Il modo con cui Programmiamo In python Il più funzionale Possibile Quindi lo dicevo Anche forse La prima volta All'esame Ci sarà una parte Pratica In cui vi si chiederà Di sviluppare Degli Esercizietti Ovviamente Per risolvere Questi esercizi Ci sono n modi Tra cui anche La versione Ad esempio Procedurale Con il ciclo for Con le if Dentro il ciclo for Eccetera eccetera Se lo risolvete così Ovviamente L'output Sarà lo stesso Ma magari Non prendere Anzi Sicuramente Non prenderete Il massimo Dei punti Perché vi sarà Richiesto Di risolvere Gli esercizi Che vi saranno Proposti Nel modo più Funzionale Possibile Quindi usando Gli ingredienti Che vedete Qui in questa Slide Ok Ce ne sono 5 o 6 Le higher order functions Gli iteratori La comprehension I generatori Le built in function Tipo map Filter E le lambda expression Oggi ci fermiamo Se riusciamo ai generatori La prossima volta Terminiamo Le slide Con gli ultimi Due ingredienti Partiamo Dalle funzioni Di ordine Superiore Quindi Uno dei concetti Fondamentali In parte L'ho detto Prima Del paradigma Funzionale È quello Di poter Inserire Delle funzioni All'interno Di altre funzioni Quindi Una funzione Può essere Considerata Come un oggetto Di prima classe Se Può prendere Come argomento Un'altra funzione Quindi Le funzioni stesse Si possono passare Come argomento E può ritornare A sua volta Una funzione Quindi Dopo la return Oltre a avere Le classiche return Ritorno una stringa Ritorno una lista Posso ritornare Anche una funzione Facciamo un esempio Subito E vi faccio Anche vedere Così L'utilizzo Di un altro Modulo Che si può importare Ed è spesso importato E largamente utilizzato In python Visto che Dobbiamo importare Un nuovo modulo Non lo faccio Su repl Ma lo faccio Su pycharm Crea un nuovo progetto Lezione 3 Ah forse L'avevo già creato Va bene Che cos'è NumPy E' un package Una libreria Python Che ci permette Di effettuare Davvero tantissime cose Relativa ai numeri Quindi operazioni Matematiche Eccetera Creare delle liste Con dei numeri casuali Quando vi serve qualcosa Sui numeri Spesso NumPy E' il package giusto E si importa in questo modo Import Import NumPy As NP Allora Cosa vuol dire questa Dicitura Importo Il package NumPy E poi ci associo Un alias NP Per semplificarmi un po' La vita nel codice Al posto di dover scrivere NumPy Tutte le volte Scrivo solo più NP Ok Non è obbligatorio Avere questo alias Allora Io ce l'ho già installato Sul mio computer Probabilmente Se voi Scrivete questa cosa qui Sul vostro Sul pc del laboratorio Vi evidenzerà di rosso NumPy Tendenzialmente così Perché Perché non è ancora installato Sui vostri pc Se questo è il caso Se con il mouse Andate sopra Al nome NumPy Che dovrebbe essere Sottolineato di rosso Dovrebbe saltarvi fuori Un link Per installare NumPy Lo cliccate Lui lo installa E da lì potete usarlo Se Per qualche strano motivo Non vi propone In automatico Di installare NumPy C'è un altro modo Per farlo Ed è Da terminale Non so se riuscite a vedere Ma in basso a sinistra Nel mio PyCharm Dovrebbe esserci anche nel vostro C'è La dicitura Terminal Se ci clicchiamo sopra Viene aperto il terminale All'interno del progetto Che stiamo Che stiamo facendo Per installare manualmente Un package Si può usare Il tool Pip Non so se ne avete già sentito Parlare Basta scrivere Basta scrivere Pip3 3 sta per python3 Usiamo il tool Pip per python3 Install E poi il nome del package In questo caso NumPy Ok Pip3 install Nome del package Questo è per installare Dei moduli esterni Manualmente Da terminale Se PyCharm Non ve lo Non ve lo propone Clicco invio Ovviamente a me dirà Che l'ho già installato Mentre a voi Lo scaricherà E lo installerà A quel punto Quando installato Lo posso importare Lo posso utilizzare Ok Allora cerco di essere fedele Alle slide L'obiettivo di questo esempio È di creare Una lista di numeri Su cui puoi calcolare Determinate funzioni Tipo il seno Il coseno L'esponenziale Allora voglio creare Una lista di numbers E nonostante io Potrei crearmi Questa lista a mano Andando a scrivere Questi numeri Manualmente Io qui voglio fare Un qualcosa di più Strutturato E quindi utilizzo NumPy NP E in particolare Sfrutto la funzione Arrange Che come il nome Può far capire È simile È simile Alla funzione Range Che abbiamo già visto In python Normale Diciamo così Crea un range Di numeri I parametri I parametri Sono pressoché Gli stessi Quindi Start End E step Ok Start Inclusivo End Esclusivo Parto Parto da 0 E lo step Tramite il metodo Tramite il metodo ToList Metodo ToList Che è sempre Ci è offerto Da NumPy L'alternativa Usare List Stessa cosa Ok ToList All'inizio È uguale Vediamo un attimo Di stampare Questa lista Vediamo cosa Salta fuori Print Numbers Forse Ok Sì esatto Più o meno A step Di 0 3 Quindi da 0 2 pi greco A step Di circa 0 3 Quindi abbiamo 0 0,3 14 0,6 28 0, Bla 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 Fino a 2 pi greco Ok Va bene Ne abbiamo la nostra lista E supponiamo di volerci calcolare un po' di funzioni ad esempio il seno Allora definiamo una funzione per calcolare il seno di una lista Che cosa vuol dire il seno di questa lista Per ogni valore presente ne calcolo il seno Quindi che ne so DoSyn La mia funzione è DoSyn a cui passo la mia lista Numbers E anche qui Dicevamo noi potremmo pensare che calcolare il seno di una lista sia una cosa per cui dobbiamo scrivere n righe di codice No C'è il package NumPy che ci fa già tutto gratis Possiamo ritornare Np.sin Quindi una funzione offerta dal package NumPy Che accetta proprio una lista di numeri E in automatico ci restituisce una lista con l'output desiderato Ok Magari le funzioni le metto prima Della definizione di Numbers E questa è quella per calcolare il seno Ma Supponiamo che noi vogliamo calcolare diverse cose su questi Numbers Magari anche ad esempio il coseno DoCos Due punti Return Np.cos Di Numbers Ma magari vogliamo anche calcolarne l'esponenziale E va bene Def DoExp Numbers Due punti Return Np.exp Numbers E via dicendo A questo punto definisco i miei Numbers Posso dire che La lista dei seni Sin list E' uguale a DoSin Di Numbers Giusto? E magari la stampa E poi La lista dei coseni Cos list E' uguale a DoCos Di Numbers E magari la stampa E per finire la lista degli esponenziali Esponenziali è Explist E' uguale Due exp Di Numbers Print Explist Ok? Va bene Ho fatto delle cose Ho definito delle funzioni Secondo voi Qual è il problema di questo programma? Non è un vero problema ma Non fatevi ingannare dal fatto che NumPy ci semplifica molto la vita Ora qui abbiamo delle funzioni semplicissime Perché abbiamo sfruttato NumPy Ma potremmo avere Potremmo usare anche il modo Il modo standard di calcolare il seno Qual è il problema di questo programma? Se io volessi calcolare il logaritmo di Numbers Che cosa dovrei fare? Andarmi a scrivere Un'altra funzione a mano Giusto? DoLog Ad esempio Nonostante tutte queste funzioni Noi in realtà le abbiamo già Perché ce le offre NumPy Quindi Manualmente dovrei andarmi a fare Sempre una funzione nuova Se noi ragioniamo dal punto di vista funzionale E soprattutto dal punto di vista Di funzioni di ordine superiore Che possono essere trattate come i dati stessi Noi possiamo ragionare in questo modo Perché non definirci un'unica funzione Che accetta due cose La lista di numeri E la funzione da applicare a quei numeri Ok? Come parametro In quel modo Riusciamo a definire un'unica funzione Che fa tutto Cioè io questa roba qui La posso trasformare in Def DoCalc Che riceve non solo i numeri Ma anche la funzione da applicare a quei numeri Funzione generica Può essere qualunque funzione Anche una funzione che definiamo noi Ok? E che cosa fa questa funzione? Semplicemente Ritorna Func Di Numbers Applica la funzione Generica Che gli abbiamo passato noi Ai numeri Che gli abbiamo passato noi Tutta questa roba qui Si traduce In questa funzione generica Ok? E quindi come la invocherò? Beh Semplicemente come DoCalc Se voglio il seno Di Numbers Virgola NP Punto Sin Notate bene Senza parentesi Tonde Ovviamente Qui non la stiamo invocando Gliela stiamo passando come parametro Quindi gli passiamo solo il nome DoCalc Numbers Sin Se voglio il coseno Beh sarà sempre DoCalc Ma al posto di NP Punto sin Sarà NP Punto Cos Voglio l'esponenziale DoCalc Numbers NP Punto Exp È chiaro quello che ho fatto Se io rallancio il programma Vediamo un po' Ah no Qua c'è un punto NP Punto Exp Ho i miei risultati Dove la prima lista sarà il seno La seconda il coseno E la terza l'esponenziale Però è chiaro il passaggio? Quindi vedete questo è un esempio di Funzione Come NP Punto sin Passata come parametro Alla stregua di una lista Una stringa Vi passiamo il nome NP Punto sin Che poi chiamiamo funk Nella funzione Ma è di nuovo Un secondo riferimento Per la stessa funzione Esattamente come abbiamo visto All'inizio di questa lezione E poi possiamo invocarla Mettendo le parentesi tonde Ok Questo è il primo esempio Di funzioni che sono passate Come parametro Facciamo il secondo esempio Funzioni che possono Ritornare Funzioni Allora Ovviamente questi esempi Li trovate anche sul sito del corso Supponiamo di avere un programma Che prenda una lista di numeri E ci restituisca La stessa lista di numeri Dove ogni numero è incrementato Di due Ok Come posso fare una funzione del genere Chiamiamola def Add Add due Riceve La sto pensando nella modalità classica Procedurale Riceve una lista di numeri Numbers E come possiamo farlo Secondo voi Qualche idea? Senza pensare a cose strane Senza pensare a cose strane Di base Tra annunci Di due Che c'è tante volte Quante lunga Ogni lista Ok Allora il vostro compagno dice Facciamo un ciclo Che scorre tutti gli elementi Di una lista E per ogni numero Incrementiamo di due Giusto? Ok Esatto Per semplificarci un po' la vita Visto che i cicli in Python Non ci danno A gratis La posizione di ogni elemento All'interno di una lista Io direi che la soluzione Più rapida e intuitiva Potrebbe essere quella Di crearsi una lista vuota Di supporto Scorriamo la lista originale Prendiamo ogni numero Lo incrementiamo di due E lo andiamo a buttare Nella nuova lista Ok Quindi ad esempio Inc numbers Uguale Lista vuota E poi scorro i miei numeri Foren in numbers E dico Inc numbers Punto append N più 2 Return Inc numbers E più o meno quello che diceva Il vostro compagno Se non che ho usato Una lista in più Poi nel programma principale Mi definisco la lista Su cui voglio operare Numbers Uguale O 2 3 6 5 E poi invoco la funzione Magari stampandola direttamente Add 2 Di numbers Vediamo se funziona Direi di sì Mi ha stampato 4 5 8 E 7 Ha aggiunto 2 Ad ogni numero Adesso la domanda è E se mi servisse Una add 4 Una add 10 Una add 5,5 Vabbè Magari qualcuno C'è già arrivato C'è la versione più semplice Che a questo esempio Si adatterebbe meglio Di quello che vedremo insieme Che è solo per farvi vedere Il concetto Ovviamente potrei avere due parametri Numbers Virgola Incremento Giusto? Ok Dal punto di vista funzionale Però questo esempio Mi serve per farvi vedere Il concetto di funzioni Che ritornano altre funzioni Al posto di avere una add 2 Che già come dice Il nome è specifica Funziona solo con il 2 Io potrei pensare di avere Una funzione Che mi impacchetta Un'altra funzione Add qualcosa Proviamo a farlo Che è più facile a dirsi A farsi che a dirsi Supponiamo di avere una funzione Def add num Che riceve come parametro L'incremento Che vogliamo applicare A una lista di numeri Allora l'obiettivo di questa funzione Add num È quello di impacchettarci Una funzione Add inc Ok? Vediamola come se fosse Un costruttore di funzioni Una funzione che ci costruisce Una funzione E ce la ritorna E noi possiamo usarla Quindi questa add num Al suo interno Avrà la definizione Di un'altra funzione Che chiamiamo Add inc Ok? Dove questo inc Verrà passato dall'utente Potrà essere 2 Potrà essere 4 Potrà essere qualunque cosa Ovviamente questa add inc Si Prenderà come parametro Sempre i nostri numeri No? E lavorerà esattamente Come lavora La add 2 Quindi vado a copiarmi Quello che c'è qui Ok? Questa è la versione Di add 2 Dove vado solamente A cambiare il 2 In che cosa Inc Quindi questa è una add generica Add qualcosa Sui numeri Che viene impacchettata Da questa funzione esterna Add num Che dopo averla impacchettata Semplicemente la Ritorna Return Add inc Anche qui Lui me l'ha messe Ma senza parentesi Perché non la stiamo Ancora invocando La sto restituendo Al chiamante Sarà il chiamante Che poi la invocherà E che cosa fa il chiamante? Lasciatemi cancellare Questa add 2 Definirà sempre La lista di numeri Su cui Su cui vuole lavorare Ma poi andrà A chiedere Ad Add num La funzione che gli serve Supponiamo ci serve La add 50 Ok Per me la add 50 È uguale Alla Add num Di 50 Quindi chiedo Alla mia funzione Add num Di impacchettarmi Una add 50 In questo caso D'accordo? Lui la impacchetta Me la ritorna Io me la salvo In una variabile Che cos'è questa variabile Adesso? Di che tipo è? Sarà una Funzione No? C'è una return Di un qualcosa Che è def Quindi questa add 50 È una funzione Che si potrà invocare Quindi io potrò dire Add 50 Di numbers In un qualche modo Questa add inc Che mi ha ritornato Add num Si ricorda del 50 È diventata Un add 50 Se io lancio Adesso il mio programma Vediamo che l'output È 52 53 56 55 È più o meno chiaro Quello che ho fatto? Vedo Testescuoters Provo a ripeterlo Abbiamo una funzione Add num Che riceve come parametro Un incremento Ok? Il suo obiettivo è Costruire una funzione Che permetta di aggiungere Questo incremento specifico A una lista di numeri E quindi Al suo interno Questa add num Definisce a sua volta Una funzione Add inc Che prende come parametro Una lista di numeri Qual è la cosa fondamentale qui? È che questa add inc Quando viene ritornata Si ricorderà Il valore di inc Che io gli ho passato qui Quindi add num Di 50 Vuol dire Chiedo ad add num Di crearmi una Add inc Con valore 50 Una add 50 Questa me la impacchetta Me la ritorna Quindi mi sta ritornando Vedete c'è il nome Della funzione No? Mi sta ritornando Una funzione Che io poi Posso salvarmi Nella variabile E usarla Invocandola Con le parentesi tonde A questo punto Se mi serve L'add 10 Eh va bene Mi faccio generare Una add 10 Da add num Quindi la add 10 Sarà add num Di 10 E potrò stampare Ad esempio I miei numeri Incrementati di 10 12 13 16 15 Quindi abbiamo visto Nel primo esempio Funzioni che vengono Passate come parametro In questo secondo esempio Funzioni che vengono Ritornate Come valori di ritorno Ritornate e poi Riutilizzate da Chi le chiama Questo vuol dire Che Python Supporta La A Dice meglio Le funzioni di Ordine superiore Quindi funzioni che Vengono trattate Alla stregua Di dati normali E va bene E questi esempi Li trovate Sia sulle slide Che come file Sul sito del corso E il vantaggio È ovviamente Quello Per cui si riducono Di tanto Le linee di codice Perché ad esempio In questo caso Ci serve Definita la funzione Generica Ci basta una riga Per qualunque Ad che ci possiamo Immaginare Non dobbiamo Riscriverla E questo era Il primo Ingrediente Forse anche Il più ostico Il secondo Sono gli iteratori Che magari Non useremo In modo esplicito Ma ritornano Sempre all'interno Degli altri ingredienti Quindi Un iteratore Rappresenta Uno stream Di dati Quindi Un iteratore Ritorna Un dato Per volta Attraverso Il metodo Next E lo stesso Iteratore Lancia Un'eccezione Chiamata Stop iteration Quando è arrivato Al fondo Tantissimi Dati primitivi Di python Supportano L'iterazione L'abbiamo visto Possiamo ad esempio Iterare una stringa Carattere per carattere Possiamo iterare Su una lista Elemento per elemento Internamente Qualcuno lo chiedeva La volta scorsa Questo ciclofor Applicato a una sequenza Ad esempio Si prende L'iteratore Associato All'elemento Che stiamo scorrendo E chiama Ad ogni ciclo Il metodo Next Per passare Al prossimo elemento Fino a quando Fino a quando Incontra l'eccezione Di stop iteration Che vuol dire Ok È finita Tutto questo Noi non lo vediamo È implementato Dalla libreria di python Però è quello che succede Con un iteratore Possiamo solo andare avanti Non all'indietro Quindi Non c'è modo Di tornare All'elemento Precedente E L'unica soluzione Quando arriviamo Alla fine È ricreare L'iteratore Se ci serve Ripartire Da zero Abbiamo detto Esplicitamente Li useremo Penso quasi mai Però sappiate Che c'è la funzione ITER Che ci permette Dato un oggetto Di recuperare Il corrispondente Interatore Cioè Ed è quello che avviene Ad esempio In enciclo for Facciamo su repl Supponiamo di avere Una lista Uno Due Tre Quattro Possiamo Recuperarci Un iteratore Per questa lista Come? Attraverso la funzione ITER Quindi posso dire Che l'iteratore Per questa lista È uguale ad ITER Di MyList Ok Ora L'iteratore Appunto Restituisce Un valore Per volta Se chiamato Quindi se io Stampo direttamente L'iteratore Eh La stampa Non mi dà Praticamente niente Mi dice LIST ITERATOR OBJECT Blah 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 Quello che posso fare Però È chiedere All'iteratore Di darmi Un elemento Per volta Ad esempio NEXT PRINT NEXT IT Che cosa fa Questo Metodo NEXT Fa avanzare Di una casella L'iteratore E quindi In questo caso Mi ritorna 1 E questo Posso farlo In sequenza Copiamo Incolliamo PRINT NEXT PRINT NEXT Quindi qua Avremo 1 2 3 Posso ancora Fare una NEXT 1 2 3 4 Se faccio Ancora una NEXT STOP ITERATION Ne sono arrivato Al fondo Ok Questo è quello Che sfrutta Poi internamente Un ciclo For ad esempio Ecco Come ho detto Adesso Caso D'uso Particolare Possiamo Anche usare Gli iteratori Per fare Il cosiddetto Unpacking Cioè Se a me serve Avere Gli elementi Presenti In una lista In variabili Separate Ad esempio Qui ho la lista L uguale 1 2 3 Voglio mettere L'1 Nella variabile A Il 2 Nella variabile B Il 3 Nella variabile C Un modo Facile Di farlo È Quello Di definirsi Un iteratore Per quella Lista E poi Fare L'unpacking Cioè Mettere A sinistra Dello Uguale Le variabili A B C Uguale ITERATOR In automatico Succede Quello Che ho detto Che il primo Valore Va a finire In A Il secondo In B Il terzo In C Ovviamente Dobbiamo Avere Tante variabili Quanti sono Gli elementi All'interno Della lista Ci sono Anche Delle funzioni Tipo Range Ma anche Numerate Map Filter Che vedremo Che ritornano Direttamente Un iteratore Al posto Di una sequenza Perché Ad esempio Se noi facciamo Ci servono I numeri Da 1 a 10 No Da 0 Supponiamo Da 0 a 10 Cosa facciamo Range di 11 Ok Range di 11 Abbiamo i numeri Da 0 a 10 Ok Però poi Per averli Dobbiamo sempre Convertirli In una lista Dire List Di range Di 10 Perché 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 il range Ritorna Un iteratore Che ritorna Un valore Per volta Ma perché Questo Secondo voi Qual è il vantaggio Di avere Un elemento Per volta Rispetto ad Averli Tutti Subito Il vostro compagno Dice per fare Una lista Per ogni elemento Singolo No Direi di no Non ho sentito Non ho sentito Di nuovo Sta cercando Un valore In che senso Si però Quello lo potrei fare Anche prendendomi Tutti i valori E scorrendoli Io Internamente Quando è che potrebbe Esserci un problema Ad avere Tutti i dati Subito Quando la dimensione Di questi dati È enorme E magari Non mi servono Neanche tutti Ok Quindi quando La dimensione Di questi dati È molto grande Ovviamente Su liste Da dieci numeri Eh vabbè Siamo d'accordo Che tanto vale Averli subito Ma su liste Da un milione Di elementi Di cui magari In questo momento Me ne servono tre Avere Tutta questa lista Di un milione Di numeri Subito Allocata in memoria E può essere Problematico Sia da un punto Di vista Di tempo Di esecuzione Perché Allocare Un milione Di elementi Costa Sia da un punto Di vista Di proprio Di memoria Sto andando A riempire La memoria Con cose Che magari Manco Utilizzerò Il concetto Di ritornare Un valore Per volta Se mi serve Che viene Implementato Dagli iteratori È chiamato Lazy Evaluation Quindi Queste funzioni Tipo map Tipo range Ritornando Un iteratore Permettono a python Di non Allocare Ancora Per il momento Gli elementi Che ci servono Quindi L'iteratore Ci ritorna Un elemento Per volta E questa operazione Riduce memoria E riduce Tempo di esecuzione Ed è conveniente Quando ci sono Grandissime Grandi quantità Di dati Questo è il motivo Per cui Viene fatto questo Ok Ovviamente Dato un iteratore Se ci applico Il list A quel punto Stiamo forzando L'iteratore A Allocare Esattamente Tutta la lista E a quel punto Ci prendiamo Tutti i dati Altro ingrediente Che vedremo Spessissimo List Comprehension Allora L'abbiamo detto Svariate volte Programmare In modo funzionale Significa Cambiare un po' Il nostro focus Dal Come il programma Lavora Al Cosa il programma Deve fare La list Comprehension È un altro modo Di scrivere le cose Quindi non è che cambi molto Però Utilizza i loop E i blocchi condizionali Invertendo nell'ordine Per focalizzarsi Sui dati Piuttosto che Sulla procedura Quindi è essenzialmente Un modo Conciso Per creare Delle liste A partire Dall'iteratore Ok Quindi List Comprehension È una sintassi Concisa Per creare liste E ne abbiamo La sintassi specifica Qui riportata Nella slide Vedete abbiamo New list Uguale Quindi una lista Variabile Uguale Tra parentesi Quadre Le liste si creano Con le quadre Quindi anche List Comprehension Ha le quadre Un'espressione Un ciclo for E una condizione Facciamo Degli esempi Data La seguente Lista Una lista Di frutti Creare Una nuova Lista Con tutti I frutti Che contengono La lettera A Allora Provate a farla Su repl Rapidamente Così Come vi viene Nella versione Tradizionale Chiamiamola così Quindi Vi scrivete Quella lista E poi Cercate di Creare una nuova Con tutti i frutti Che contengono La lettera A Grazie Grazie. Grazie. Ok come facciamo? Vabbè potrei pensare di avere una nuova lista, nuovi frutti, giusto? Che definisco come lista vuota. E poi? L'idea potrebbe essere di scorrere la lista originale, elemento per elemento, vedere se ce la ha, se ce la metto i nuovi frutti. Quindi dico for frutto in frutti, due punti, devo controllare se quello specifico frutto contiene la A. Lo posso fare tramite, sono stringhe, quindi if il carattere A, che in python è una stringa, in frutto. Quindi se c'è almeno una A nel frutto la metto in nuovi frutti. Nuovi frutti, punto append, frutto. E poi magari la stampo, print, nuovi frutti. Lanciamo e infatti mi dà i due frutti che hanno, che contengono una A e non un lemon che non la contiene. Questo è quello che penso che più o meno tutti abbiano fatto. Vediamo la versione equivalente con una list comprehension. Posso fare direttamente tutto in una singola riga, dicendo in questo modo. Nuovi frutti uguale, aperte quadre. Ok, prendo un frutto. Per ogni frutto in frutti. Quindi vedete, c'è un'espressione che in questo caso ci dice quello che vogliamo prendere, frutto. Ma lo prendo da dove? Per tutti i frutti in frutti. Quindi for frutto in frutti. Ma non li prendo tutti. Solo se, if, a, in, frutto. Frutto. Fatemi usare una versione più compatta, usando F. For F. Ok, così ci sta in una sola riga. Quindi, prendo F. Ma dove è definita questa F? È definita nel ciclo for. Quindi, for F in frutti. Quindi F sarà il frutto ad ogni giro. Lo prendo solo se ce l'ha in F. Quindi ho tradotto questa roba qui in una riga singola con una list comprehension. Vedete che è invertito, no? C'è il ciclo for che è in mezzo. L'espressione che è prima. Quindi quello che prendo qui era a riga 6, frutto. Qui in realtà è subito all'inizio. Io prendo il frutto. Per ogni frutto che c'è in frutti, se quel frutto contiene la A. Questo è il modo di leggerla. Vedete che riduciamo le righe di codice. E ci concentriamo su che cosa vogliamo prendere. Senza specificare passo passo come. E l'output ovviamente sarà lo stesso. Torniamo alle slide. Questo è quello che abbiamo fatto. Ovviamente possiamo fare anche cose più complicate. Ad esempio, secondo voi, questa list comprehension che vedete qui nella slide, che cosa stampa? Vedete che ci sono già degli elementi in più. Innanzitutto ci sono due cicli for. Qui vedete. Poi c'è nell'espressione, non c'è una singola variabile che prendiamo, ma ce ne sono due. All'interno di una tupla. Che cosa stamperà, secondo voi, questa roba qui? Due cicli for messi così è come se fossero due cicli for annidati. Quindi prenderemo coppie di x e y solo se x è diverso da y, se leggiamo l'ultima condizione. Quindi avremo 1 3, 1 1 no, perché sono uguali, 1 4. E poi 2 3, 2 1, 2 4, eccetera. Quindi questa è la versione imperativa, no? Vedete i due cicli for annidati, faccio l'append solo se x è diverso da y. Vedete posso anche avere cose più complicate con più di un ciclo for. Occhio perché domande del tipo che cosa stampa questo, domanda classica della prima parte dell'esame. Quindi dobbiamo saper dire che cosa stampano le funzioni. Ok, finalmente il primo esercizio prima della pausa. Data una sequenza di numeri da 1 a 20. Questa la potete generare voi o la potete scrivere direttamente. Numeri non necessariamente consecutivi, anche casuali. Scrivere un programma che produca una lista contenente la parola dispari, se il corrispondente numero è dispari, pari se è pari. Quindi l'output sarà una lista che è lunga 20, in cui ci sarà pari, dispari, dispari, pari, pari, dispari, a seconda del numero corrispondente nella lista di numeri. È chiaro? Vi propongo di provare prima a risolverlo, a risolvere questo esercizio in modo imperativo, e poi di provare a tradurlo in modo funzionale con una list comprehension. È chiara la consegna? Va bene, vi lascio 10 minuti, un quarto d'ora, io giro se avete bisogno e provateci. Grazie. Grazie. Ok, possiamo riprendere. Vediamo di risolvere un attimo insieme l'esercizio che vi avevo proposto. Vabbè, partiamo dalla versione imperativa. Ci definiamo questa lista di numeri, che di nuovo può essere una lista di numeri casuali, forse il testo chiedeva una lista di numeri da 1 a 20, se non sbaglio. Va bene, la definiamo così. Numeri uguale list di range. Abbiamo visto prima perché dobbiamo usare list, perché range ritorna un iteratore. Numeri da 1 a 20, va bene, 1,21. Giusto? Ok, quindi, l'approccio potrebbe essere questo. Scorro i numeri uno per uno, vedo se è pari o dispari, e in una lista d'appoggio inserisco la stringa pari o la stringa dispari a seconda del mio numero, no? Quindi supponiamo di avere una lista risultato vuota inizialmente. Scorro i miei numeri, for n in numeri, due punti. Penso che l'abbiate capito tutti, come si fa a capire se un numero è pari o è dispari. Con l'operatore modulo, quindi if n per cento, per cento che cosa? Due, direi. Uguale uguale a zero. Se questo è il caso, vuol dire che il numero è pari. E quindi dico risultato, punto append, pari. else due punti risultato punto append dispari. Giusto? E poi stampo print numeri no, non numeri, scusate. Risultato. Dispari pari, dispari pari, dispari pari, eccetera. Questa era la versione imperativa. Supponiamo c'è un esercizio del genere all'esame, vale sei punti, l'ho fatto così, l'output è corretto, prendo due punti su sei, non lo so, ora devo fare i conti, ma comunque non prendo il massimo. prendo il massimo se lo faccio con una list comprehension che cerchiamo di fare insieme adesso. Allora, per chi ci ha provato si è scontrato con un problema. Farlo con la struttura che vi ho fatto vedere prima non si riesce. cioè la struttura data da espressione for condizione. Perché io potrei dire ok, metto pari per ogni n in numeri è if n per cento due uguale o uguale a zero. e va bene però non so bene dove mettere la else ok, se la metto qua non funziona else dispari se la metto al fondo lancio e vedete ho una eccezione non va bene la sintassi che usate. Questo esercizio era per farvi capire che quella struttura di base che vi ho fatto vedere ha tre blocchi principali espressione for condizione ma questi blocchi si possono un po' anche spostare in particolare la condizione si può mettere prima del ciclo for quindi io posso dire pari if n per cento due uguale o uguale a zero else dispari faccio questo per ogni n in numeri ok vediamo di andare a capo un po' così quindi risultato uguale pari se n per cento due è uguale o uguale a zero altrimenti dispari per tutti gli n in numeri quindi abbiamo preso la condizione e l'abbiamo spostata tra l'espressione e il ciclo for si può fare e in questo modo riusciamo ad avere anche una else in sostanza qui mischiamo un po' l'espressione con la condizione vedete prendo pari o prendo dispari e c'è la if con la else in mezzo lanciamo ah sì perché sono andato a capo non devo e il risultato è quello di prima e ho preso sei punti domande vediamo allora l'ultimo ingrediente di oggi che sono i generatori e torniamo anche un po' indietro al concetto di lazy evaluation che abbiamo visto prima una list comprehension si vede nell'ultimo esercizio che abbiamo fatto restituisce direttamente la lista intera tutta e questo l'abbiamo detto prima può essere problematico quando abbiamo una quantità di dati molto grande in termini di memoria in termini di tempo di esecuzione i generatori sono di loro natura lezzi cioè non ritornano tutta una struttura dati ma ritornano un iteratore che restituisce come abbiamo visto prima un valore per volta quando necessario quindi il focus qui è su come ottenere i dati e come li otteniamo chiamando in sequenza next il metodo next a seconda delle nostre esigenze chiamiamo next sul generatore quindi una generator comprehension è praticamente uguale a una list comprehension tolte le parentesi che lo racchiudono che sono tonde al posto che quadre quindi l'unica differenza sono le parentesi se andiamo su repl io posso ad esempio avere una list comprehension che mi generi i numeri da 1 a 10 per esempio ok come la faccio numeri uguale una lista voglio tutti i numeri da 1 a 10 senza nessuna condizione in particolare vabbè basterà scrivere la list comprehension senza la condizione quindi n for n in range 1 11 giusto questa mi dà una list comprehension che mi dà i numeri da 1 a 10 vedete che me li dà tutti in una volta sola ho subito la lista se al posto delle quadre metto delle tonde al posto di avere una lista o un generatore se provo a stampare i numeri come per gli iteratori viene stampata questa schifezza qui cioè non vengono ancora allocati i numeri ma ho un oggetto generatore che posso usare per generare i numeri da 1 a 10 1 per volta quindi quello che posso fare è chiamare next di numeri il primo next ovviamente ci restituirà 1 se ne chiamo più di 1 in sequenza print next avrò i miei numeri 1 per volta in questo caso 1 2 fino a stop iteration quindi quando supero il 10 ho un'eccezione ok semplicissimo vantaggio l'abbiamo visto quello degli iteratori per grosse quantità di dati avanziamo di allocare memoria che non ci serve oltre a generare dei generatori con la comprehension la comprehension è quella sintassi che si può usare sia per l'iscomprehension che per i generatori possiamo definire creare dei generatori in modo diciamo imperativo utilizzando una funzione una def ok qual è l'unica differenza che appunto differenzia una funzione normale da un generatore l'uso della parolina chiave yield yi e ld al posto della return python se trova quella parolina chiave lì sa che quella def non è una funzione normale ma è un generatore ok se vogliamo fare lo stesso generatore che abbiamo appena fatto con questa sintassi qui potremmo definirci una funzione def genera numeri che al suo interno avrà un ciclo for for n in range il ciclo for di prima 1 11 e per ogni n yield di n allora qual è la differenza con una funzione normale? la differenza è che con una return normale la funzione ritorna il valore e termina finisce quindi una funzione scritta così con la return al posto della yield ah scusatemi grazie mirror ok ripetiamo questo è lo stesso generatore che ho fatto prima prima con la comprension fatto con una funzione def vedete def genera numeri c'è lo ciclo for di prima for n in range tra 1 e 11 yield di n dicevo qual è la differenza con una funzione normale? se qui io avessi una return classica cosa fa la return? io chiamo la funzione ho questa return mi ritorna il risultato la funzione finisce ed esce no? quindi una funzione scritta così che cosa farebbe? se la chiamo anche più di una volta ritorna sempre 1 ok? e poi finisce la differenza con yield è che invece la yield blocca l'esecuzione in quel punto e si ricorda del punto in cui è arrivata cioè se io chiamo questa funzione e chiamarla per un generatore vuol dire invocarla tramite next la prima volta lui mi ritornerà 1 ma poi starà fermo lì in attesa che io faccia la prossima next la prossima next farà sbloccare questa funzione che farà un altro giro passerà al 2 e mi ritornerà al 2 e rimarrà di nuovo ferma lì ok? allora questo è uguale alla comprehension di prima quindi voi mi direte perché non usare la comprehension risparmiamo spazio e tempo facciamo tutto in una riga sola generiamo dei generatori scusate il gioco di parole così quando abbiamo bisogno di fare cose un po' più complicate ad esempio quando abbiamo bisogno di avere un parametro non vogliamo un generatore da 1 a 10 ma vogliamo un generatore da 1 a n e quell'n vogliamo specificarlo come parametro in questo caso con la comprehension non possiamo farlo non possiamo passare un parametro a quella sintassi che abbiamo visto e quindi possiamo farlo così passando un parametro n a questa funzione a questo punto non sarà vabbè chiamiamola num solo per differenziarlo da questa n a questo punto non sarà più un range da 1 a 11 ma un range da 1 a num ok e come lo creo questo generatore perché qui l'ho soltanto definito beh posso dire che il mio gen che ne so un po' come prima gen 50 quando abbiamo visto la add gen 50 sarà genera numeri di 50 mi sono creato un generatore di numeri da 1 a 50 e poi lo posso usare print next di gen 50 ad esempio e mi restituirà il primo numero di quel generatore che è sempre 1 ovviamente un generatore così come gli iteratori si possono usare con le next si possono usare anche implicitamente nei cicli for quindi posso sempre dire for n in gen 50 e lui fa le next implicitamente le fa lui come ciclo for e stampare print n in questo caso non dobbiamo neanche gestire la stop iteration perché viene gestita direttamente dal ciclo quindi si può invocare con next o si può iterare su di esso così come itereremo su un iteratore quindi la yield fa sì che il generatore si ricordi l'ultimo valore che ha prodotto sia bloccato lì in attesa di una prossima next quindi ogni funzione che contiene questa parolina chiave diventa un generatore che non ritorna un singolo valore come per le funzioni standard ma ritorna un iteratore l'altra cosa che possiamo fare ed è forse la parte un po' più complicata con le funzioni come generatori è quella di oltre a passare dei parametri nel modo classico quindi nel prototipo della funzione possiamo anche passare dei dati dinamicamente a questo generatore tramite la parolina chiave send allora vediamo un esempio supponiamo di avere sempre il nostro contatore cambiamo magari il ciclo al posto di un for facciamo un ciclo while non cambia niente ma mi serve per fare questo esempio quindi al posto di un for facciamo un ciclo while definiamoci una variabile che parte da 1 ok e andiamo avanti finché while i è minore o uguale di 50 senza parentesi giusto? finché i è minore o uguale di 50 facciamo la yield di i quindi al primo giro i vale 1 ritorniamo 1 quando qualcuno mi sbloccherà con una successiva next cosa dovrò fare? incrementare i i più uguale 1 e poi lui andrà su e farà una nuova yield e rimarrà bloccato lì è uguale a prima ho solo usato un while al posto di un for e infatti mi dà lo stesso risultato adesso supponiamo di voler fare qualcosa di più complicato vogliamo avere la possibilità di generarci questo generatore di numeri da 1 a 50 usarlo per un po' che ne so da 1 a 5 ma poi poter cambiare il punto di partenza dire ok basta adesso voglio andare da 40 a 50 ok? quindi ho fatto i primi 5 numeri e poi posso saltare direttamente al 40 e ripartire da 40 fino a 50 ok? è chiaro? come posso farlo? mandando questo 40 al mio generatore in modo dinamico dopo averlo creato si fa tramite la parolina chiave send ovviamente la send la farò da qui quindi mi sono creato il mio gen 50 magari stampo i primi numeri print next 50 gen 50 print gen 50 quindi 1 2 e poi mi stufo e dico print voglio passare al valore 40 dico gen 50 punto send 40 gli dico ok da adesso in poi vai avanti dal 40 qui gli sto mandando questo dato ovviamente dall'altra parte devo riceverlo in qualche modo come lo ricevo? a questo punto in presenza di una send questa yield diventa un'espressione e il dato che io mando mi arriva proprio in questo punto qui val uguale yield cosa vuol dire? vuol dire che in presenza di una next io sblocco solamente il generatore senza passargli nessun dato quindi supponiamo in un certo punto di esecuzione il generatore è fermo lì in quel punto lì sulla riga 4 gli faccio next gen 50 lui si sblocca senza ricevere nessun dato e quindi val sarà avrà conterrà il valore none anzi non conterrà nessun valore perché non gliel'abbiamo passato e lui si sblocca e va avanti supponiamo invece di essere fermi qui ma di ricevere una send la send si comporta esattamente come una next quindi fa sbloccare il generatore l'unica differenza è che prende quel 40 lì e glielo mette in val quindi lui si sblocca avendo qualcosa in val noi dopo aver sbloccato il generatore a questo punto possiamo controllare che cosa c'è in val per capire che cosa fare cioè posso dire if val cosa vuol dire if val vuol dire che val contiene un qualcosa e truti se fosse none questa if sarebbe falsa non entreremo lì quindi if val vuol dire per noi che da fuori ci hanno passato un valore in questo caso 40 ma potrebbe essere qualcos'altro che cosa facciamo vogliamo ripartire da quel nuovo valore e vabbè diciamo allora i uguale 40 sovrascriviamo i altrimenti i uguale i più 1 quindi se non riceviamo niente continuiamo uno step per volta se riceviamo qualcosa partiamo da quel qualcosa quindi proviamo a innanzitutto se lancio questo programma farà 3 print la prima next stamperà 1 la seconda next stamperà 2 questa send qua stamperà 40 è vero? si 1, 2, 40 vediamo perché proviamo a simularlo passo passo prima next il generatore non è mai stato invocato allora partiamo dall'inizio i uguale a 1 while i minore uguale di 50 val uguale yield di i ok è stato invocato con una next non c'è niente in val ritorniamo il valore 1 e stiamo fermi lì e stampiamo 1 ok siamo fermi lì seconda next mi sblocco non ho ricevuto niente quindi val è none quindi eseguo riga 5 if val no vado nella else faccio i più uguale 1 vado a 2 torno qui while i minore uguale di 50 yield 2 e ritorniamo il 2 e stiamo fermi lì send mi sblocco a questo punto però ho ricevuto un 40 che è stato messo in val quindi mi sblocco come per la next però dico if val sì i uguale 40 in realtà i uguale val non i uguale 40 ho sbagliato 40 è quello che passa ma potrebbe essere qualunque cosa quindi sovrascrivo il valore di i torno su while i è ancora minore di 50 e quindi yield val in questo caso yield 40 e stiamo di nuovo fermi lì è chiaro? quindi posso dopo aver istanziato un generatore posso anche mandargli un dato e il dato si recupera in questo modo qui poi che cosa farci con quel dato è una roba che codifichiamo noi cioè abbiamo deciso noi di far comportare in questo modo il generatore perché ci serviva questa cosa qui però questo stesso meccanismo lo possiamo usare per gli scopi più disparati e questo è quello che abbiamo visto allora direi facciamo l'ultimo esercizio insieme cioè vi lascio 10-15 minuti e poi lo risolviamo insieme e poi vediamo il laboratorio questo esercizio è sui generatori e vi chiede di scrivere un generatore infinito attenzione qui noi abbiamo visto dei generatori che erano finiti numeri da 1 a 10 ma nulla ci vieta di scrivere dei generatori infiniti che potenzialmente non hanno una fine un valore per volta andiamo avanti all'infinito un generatore infinito per la serie di fibonacci serie che dovreste penso conoscere quindi fibonacci di 0 e 0 fibonacci di 1 e 1 dal terzo valore in poi fibonacci di n è la somma dei precedenti due provateci e questo poi lo risolviamo ancora insieme quindi l'obiettivo era creare un generatore infinito per la sequenza la serie di fibonacci quindi un generatore che poi mi permette dal programma di chiamare infinite volte la next quindi la prima next mi ritornerà 0 la seconda next è 1 eccetera eccetera all'infinito volendo seguendo la serie di fibonacci allora io posso avere una def fibonacci sembra una funzione ma non lo è perché sarà un generatore allora diciamo che la serie di fibonacci inizia a essere calcolabile in modo ricorsivo ovvero basato sui due elementi precedenti a partire dal terzo no i primi due elementi sono fissi la prima volta dovrò avere 0 la seconda 1 eh ok allora nulla mi vieta di avere due yield la prima yield 0 e la seconda yield 1 no tanto non sono return classiche ma si ricordano dove erano arrivate quindi la prima yield il primo next farà questa yield qui ma poi staremo fermi lì non ripartiremo da 0 alla seconda next la seconda next farà sbloccare e eseguirà la seconda yield quindi questi potrebbero essere i primi due valori ora visto che poi questi due valori abbiamo bisogno di sommarli insieme per la terza yield forse vale la pena avere due variabili f1 e f2 che poi andrò a sommare insieme quindi per me f1 uguale a 0 yield f1 la prima volta la seconda volta sarà f2 uguale a 1 yield f2 e ho generato i primi due numeri della serie da qui in avanti posso sempre calcolarli basandomi sui due precedenti lo voglio calcolare in modo infinito voglio un generatore infinito e vabbè quindi avrò un ciclo ad esempio while true che per definizione è un ciclo infinito non finisce mai finché è vero e cosa faccio qui dal terzo giro in avanti semplicemente yield f1 più f2 quindi al terzo giro sarà 0 più 1 e mi blocco qui per andare avanti cosa dovrò fare spostare gli ultimi due elementi affinché seguano quello che ho ritornato quindi per la quarta next e dalla quarta next in avanti io dovrò dire che f1 uguale a f2 e f2 uguale e qui mi manca qualcosa qui f2 dovrebbe essere uguale alla somma di f1 più f2 però qua ho già sporcato f1 e quindi devo in qualche modo avere anche un f3 che mi tenga traccia della somma f3 uguale a f1 più f2 qui faccio yield di f3 e qui posso dire che f2 è uguale a f3 e anche se sporco f1 non importa perché ho questa variabile che mi tiene traccia della somma quindi abbiamo le prime due yield fisse diciamo così e poi da lì in avanti ci basiamo sulla somma dei due precedenti e poi spostiamo i due precedenti affinché seguano la serie e adesso dal mio programma principale mi posso generare costruire un generatore fibonacci ad esempio fib uguale fibonacci e poi da qui in avanti posso chiamare next fib next fib eccetera non lo metto in un ciclo for perché essendo infinito poi non termina 0 1 1 2 eccetera eccetera ok quindi uno per volta ci restituisce i valori della serie di fibonacci e questo chiude l'ingrediente generatori e ci permette di affrontare andiamo a prenderlo dal sito del corso il laboratorio di oggi non abbiamo più molto tempo ma potete iniziarlo qui e poi finirlo a casa eccolo qua il laboratorio 1 di python functional ve lo introduco rapidamente abbiamo quattro esercizi cinque esercizi in cui i primi sono sulla least comprehension i primi due anzi i primi tre mentre il quattro e il cinque sono dei generatori ok vabbè quelli sulla least comprehension sono abbastanza intuitivi lo sono un po' meno quello sui generatori vediamoli un attimo insieme l'esercizio 4 ci chiede di scrivere un generatore che calcola la running average di una sequenza di numeri che cos'è una running average calcoliamo la media dei valori di una lista ad esempio fatta ricevendo un numero per volta quindi usiamo il metodo send mandiamo al generatore un numero per volta e ogni volta diciamo a quanto sta la media in quel determinato momento quindi se la lista è 7 13 17 231 eccetera inizio a mandare al generatore il primo numero 7 qual è la media vabbè c'è un solo elemento sarà 7 poi gli mando il secondo 13 e calcolo la media tra 7 e 13 che è 10 poi gli mando il terzo e quindi la media sarà tra 7 13 e 17 quindi un generatore in grado di ricevere un numero per volta e sputare fuori la media fino a quel momento e qui l'esercizio è fatto per usare la send che abbiamo visto con la send mando appunto dinamicamente dopo aver creato il generatore un numero per volta l'ultimo esercizio che è forse quello più complicato ok non ci saranno esercizi così complicati come il 5 all'esame come gli altri sì ma come il 5 no però è fatto proprio per aiutarvi a impratichirvi meglio con i generatori vi si chiede di implementare una versione vostra della readlines di un file fatta non solo su un file ma su una lista di file nel senso che potete specificare all'interno del vostro programma una lista che contiene dei nomi di due o più file file1.txt file2.txt file3.txt e grazie a questo generatore readlines voi potete leggere una riga per volta di questi file con la differenza che quando arrivate all'ultima riga del primo file una nuova next fa passare al file successivo e quindi si parte con il secondo file e lo si legge riga per riga non solo questo succede se l'utente preme invio quindi l'utente preme invio una riga per volta di ogni file quando arrivo al fondo passo al file successivo se l'utente preme n più enter quindi digita n preme invio a questo punto si passa al file successivo indipendentemente dal punto in cui sono arrivato supponiamo ho due file entrambi di dieci righe inizio a premere invio e parto dal primo file leggo prima riga seconda riga terza riga l'utente preme n più invio ok salto tutto quello che c'è passo alla prima riga del secondo file e da lì posso andare avanti anche qui generatore e anche questo fatto di poter digitare cose diverse ci fa capire che probabilmente ci servirà una send al generatore per fargli capire ok è ora di passare al file successivo oppure continua così come stai andando fine potete lavorare anche tra di voi a gruppi come volete io se avete delle domande sono qui e